bentornati amici innamorati qui su festecompleanni.com edizione speciale san valentino io sono sempre il vostro mister nani e oggi insegnerò a voi bambini come realizzare un fantastico mazzo di rose così potrete farlo vedere al vostro papà per fare un bel regalo alla vostra mamma amici preparate palloncini e pompette e prepariamoci a realizzare il mazzo di rose per prima cosa vedremo insieme come realizzare una singola rosa poi sta a voi decidere quanto grande farlo il mazzo potete usare due rose tre rose dieci rose 50 rose mille rose non c'è limite alla vostra fantasia prendiamo un palloncino verde e un palloncino rosso cominciamo con la rosa quindi servirà il palloncino rosso lo prendiamo lo gonfiamo completamente e facciamo un bel nodo cominciamo con il corpo dobbiamo fare tre salsicce della stessa lunghezza prima ne faremo due le fissiamo e la terza salsiccia la faremo della stessa grandezza ma la faremo passare in mezzo alle due che abbiamo appena fatto molto bene ora dobbiamo fare tre piccole palline e tutte e tre le fisseremo con la torsione ad orecchio il palloncino che non ci serve possiamo romperlo ecco qui una bellissima rosa pronta per sbocciare proprio il giorno di san valentino ricapitolando abbiamo fatto tre salsicce della stessa grandezza e tre palline fissate con la torsione ad orecchio ora passiamo al gambo prendiamo un palloncino di colore verde lo gonfiamo completamente e lo chiudiamo con un bel nodo qui faremo due torsioni ad anello ci basta fissare la rosa con il nodo proprio qui in mezzo alle due torsioni ad anello la vostra rosa è pronta ora potete realizzare quante rose volete e unirle tra di loro per ottenere questo fantastico risultato un bellissimo mazzo di rose posso darvi un consiglio se volete unirle vi basterà fare due anelli con un altri due palloncini in questo modo le rose resteranno ferme amici per oggi è tutto e voglio salutare tutti quanti i nostri fan che ci seguono qui sul nostro canale youtube feste compleanni se volete iscrivervi basta cliccare sulla mia faccia proprio qui sopra e automaticamente sarete aggiornati ogni volta che il vostro mister nani pubblicherà un video nuovo amici per oggi è tutto un bacio dal vostro mister nani e mi raccomando non perdete la puntata di domani eh già anche domani avremo una scultura pronta per voi amici ciao a tutti ciao a tutti